Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, Marcello Carapezza, Lord Ioanni Rummukainen, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Andrea Imaretti e Davide Gelmini. Capitolo V. Cocoricò Quando nella zone di Jules Envie veniva commesso un furto, un delitto o un qualsiasi misfatto, subito i giudici, i poliziotti, le autorità municipali e tutti gli abitanti del paese si indirizzavano verso il trio degli assassini. Il loro passato di recidivi incalliti, il loro modo di vivere, li additavano per forza come sospetti. Alle nove del mattino si sapeva già che si erano riuniti tutti e tre allo Zonbar la sera prima e che avevano preso poi la strada dell'edificio dove erano caduti i sacchi e che nonostante la sorveglianza dei quattro gendarmi e di una mezza dozzina di investigatori assoldati dalla Banque de France, quei sacchi erano spariti. Della piccola truppa di guardia restavano solo tre uomini, poiché gli altri erano stati uccisi e ammazzati dal famoso double turc, mentre Fuinare e Puscafè portavano via il tesoro. Ai sopravvissuti fu chiesto «Avete riconosciuto il gigante?» «Diamine!» «Riconoscereste i suoi complici?» «Difficilmente!» I magistrati iniziarono le ricerche. Durante la notte aveva piovuto e fino al bar e a partire dal bar si seguivano facilmente le tre impronte sul terreno bagnato. Queste condussero al recinto del mattonificio. Gli inquirenti entrarono, poi suonarono alla porta della fabbrica dove furono introdotti dai bambini. Sdraiato per terra in mezzo alla sala, la cloche era legato, imbavagliato e attaccato con delle corde alla base del pilastro centrale. «Furfanti! Miserabili!» esclamò quando lo liberarono. «Mi hanno chiamato fuori e mi hanno proposto di tenere i loro sacchi, mentre sarebbero andati a cercare aiuto su una chiatta ancorata sulla senna all'estremità del viale. Beh, ho rifiutato e loro mi hanno massacrato e avvolto di legacci. Ero imbestialito.» «Chi ti ha legato e trasportato qui?» «Beh, non lo so.» «E secondo te dove stanno?» «Ma sulla chiatta.» «Quindi dobbiamo solo seguire le tracce?» «Sì, scendendo il fiume! Un vaporetto li aspetta!» Era meno semplice di quanto dicesse. Non furono trovate le tracce di tre uomini, ma una quarta impronta, che non era simile a nessuna di quelle che li avevano condotti alla rimessa. Quanto alla chiatta scomparsa, un gendarme in motocicletta la raggiunse un'ora dopo nei dintorni di Pontois. Il trio degli assassini non c'era e i sacchi d'oro nemmeno. Quando, a ritorno, il gendarme rese conto della sua spedizione, il vecchio Laclosce e i sette figli, tra cui Josephine, con un bel vestito nuovo che ne valorizzava la vita sottile e le spalle larghe, facevano colazione, prestando estrema attenzione ai discorsi dei magistrati. All'improvviso, a qualche distanza, oltre il bare sul lato della Senna, risuonò un canto di gallo stridente, vibrante, sproporzionato rispetto a quello di un comune gallinaceo. Il prodigioso clamore diffuso nello spazio si ripercosse contro le colline vicine e riecheggiò appena smorzato. Con uno stesso movimento, come i gesti spontanei di un esercizio compiuto con una disciplina militare, i sette bambini, femmine e maschi, si erano messi impettiti sull'attenti. Un secondo Kikiriki sgorgò più trionfante ancora. I bambini fremettero, al terzo balzarono come se delle molle li avessero proiettati fuori dell'edificio, dalle porte o dalle finestre rapidamente aperte. E tutti si precipitarono nella zona di Julenvie, alcuni prendendo un viottolo, altri un sentiero, altri ancora attraversando un prato, un giardino o dei terreni incolti, ma tutti nella stessa direzione, correndo a perdifiato, con la voglia evidente di arrivare per primi alla meta. Che meta? Era quella spianata dall'erba appassita che Josephine raggiunse mezzo minuto prima degli altri e di cui oltrepassò con un salto il cancello bianco? Su una montagnetta stava un uomo ancora giovane, in tenuta sportiva, pantaloni corti, il busto in alto e le braccia nude, l'aspetto di un ex ufficiale, con il berretto gallonato, la giacca color kaki con bottoni d'oro. Josephine era vicino a lui con le mani tese. L'uomo le prese tra le sue e si guardarono intensamente. «Josephine», disse l'uomo, «c'è stato il duello, lo indovino dalla tua espressione». «Sì, e non è stato troppo difficile». Josephine raccontò la scena con la cloche, ma si accalorava e l'altro lo interruppe. «Alt!» «Capo, mi rimane la parte più interessante da raccontare». «Lo so bene, Diamine, ma qual è il punto fondamentale del mio metodo? Non perdere mai il sangue freddo, mantenere un controllo assoluto su se stessi». Nessuna emozione apparente, nessun tremolio nella voce. Occhi calmi, voce tranquilla. Hai capito? Finalmente! Sorridi ora! Perfetto! E racconta, che cosa ti ha detto il vecchio? Che mamma non era stata irreprensibile. E cosa gli hai risposto? Tanto meglio. Ed è tutto? No, mi ha lasciato intendere che forse non ero figlio suo. E gli hai risposto? Ah, papà, se potesse essere vero! Meraviglia! Ma allora, capitano, se non è lui, chi può essere? Lei deve saperlo, la prego, parli! Non pronunciamo parole troppo precise, Giusefine. Pensiamo e agiamo secondo il nostro cuore. Continuavano ad arrivare dei bambini, da soli o in bande. Di tanto in tanto, il capitano lanciava un richiamo travolgente. E frotte di piccoli, di adolescenti e di ragazzine accorrevano da ogni parte. Scavalcavano il cancello, si riunivano a gruppi intorno ai pali con cartelli e indicazioni di raggruppamento. Le signorine bianche, i cacciatori di scalpi, eccetera. Anche i due uomini erano entrati. Seguiti dai gendarmi e dagli investigatori, si avvicinarono in silenzio alla montagnetta dove erano il capitano e Giusefine, che immobili non sembravano vedere altro che loro stessi. Molto lentamente, con slancio controllato, si strinsero la mano e il capo alzò il braccio in alto. Risuonò un clamore immenso. Poi subito calò un silenzio fatto di attesa, di raccoglimento, di allegria trattenuta. E di colpo partirono gli ordini del capitano, scanditi da monosillabi duri e imperiosi, che fecero flettere e raddrizzare tutti quei corpi in un esercizio di cultura fisica, come in un campo con le spighe mature che si piegano e si irrigidiscono sotto le ondate di una tempesta di pioggia e vento. RIPOSO! Tutti si misero a terra. Trascorse un attimo, poi il ritmo degli esercizi ricominciò. Un nuovo ordine di riposo e i bambini si accovacciarono alla maniera araba, tendendo l'orecchio alle brevi parole che diffondeva su di loro la voce autoritaria del capo. Bambini miei, quando finiscono questi esercizi, che fate ogni giorno con una fede e un'allegria di cui vi ringrazio, allora inizia la vita privata di ciascuno e vi chiedo di metterci lo stesso entusiasmo, la stessa serietà e la stessa attenzione appassionata. Ognuno di voi è responsabile di ciò che farà oggi. Non credo che sia possibile compiere ogni giorno una buona azione, ma potete sempre agire al meglio del vostro interesse, della vostra salute e della vostra dignità personale. Per quanto giovani siate, dovete sempre difendervi da coloro che tentano di umiliarvi o di sminuirvi. Se gli altri hanno torto nei vostri confronti, l'indisciplina è vostro dovere. Se vostro padre o vostra madre perdono il controllo fino a picchiarvi, ribellatevi. Andate a lamentarvi con il primo che capita. Un bambino non deve essere infelice per colpa di coloro che hanno il compito di renderlo felice. Se nessuno vi ascolta, venite da me. Non sono solo l'istruttore che controlla l'agilità del vostro corpo, sono colui che assiste, che protegge e che ama. A domani, miei cari bambini. La partenza fu tanto ordinata quanto l'arrivo era stato tumultuoso e affidato al caso. Ogni bambino sembrava seguire un percorso che gli era assegnato. I cancelli non furono scavalcati, ma superati in punti in cui bastava spingere per farsi un varco. E sull'ampia spianata restarono ben presto solo i due magistrati scortati dai poliziotti. Erano tutti chini con gli occhi fissi a terra come se stessero cercando qualcosa e le loro ricerche li condussero ai piedi della montagnetta centrale. Il capitano andò a loro incontro e chiese a quello che sembrava il personaggio più importante Che cosa succede, signore? Ignora forse che vi trovate su una proprietà privata? Mi scusi, pensavamo di essere su una proprietà municipale. Sono il signor Furvie, giudice istruttore, incaricato dalla procura della Senna di far luce sul caso dei sacchi d'oro caduti da un aereo inglese. Ecco i miei collaboratori, tra cui il procuratore della Repubblica. Il capitano spiegò Ah, ho sentito parlare di quei sacchi, infatti. Dicono che siano scomparsi, vero? Sì, come i presunti ladri, personaggi pericolosi di cui abbiamo individuato le tracce. E le tracce portano qui? Proprio qui, nel posto dove mi trovo. I compagni del giudice si erano mossi e circondavano il capitano. Lui li osservò con sorpresa e scoppiò a ridere. Ah, 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 il che darebbe a pensare, signor giudice istruttore, che i due sacchi e i tre ladri siano svaniti, perché tra lei e me non vedo niente, né sacchi né individui sospetti. Il giudice insinuò No, ma le tracce proseguono dietro di lei, signore. Dal lato di quel sentiero infossato che scende verso la porta di ferro di quella specie di casa matta che intravedo laggiù. Casa matta dell'epoca gallo-romana che mi serve all'occasione da cantina per il mio vino. Il capitano si scansò, lasciando passare i magistrati. Il signor Furvie andò a esaminare la ridotta, costruita di mattoni e pietre. Ritornò osservando accuratamente le tracce di passi e poi pronunciò Si sente rumore all'interno, delle voci, dei lamenti. Forse, disse il capitano, vi ho rinchiuso i tre ladri? Ad ogni modo, precisò il signor Furvie, le tre tracce conducono là e la quarta non è di rozzi stivali, ma di scarpe eleganti, fini e di dimensioni sotto la media. Probabilmente le piacerebbe, signor giudice, confrontare quelle impronte con le mie scarpe. Senza aspettare la risposta, raggiunse il sentiero infossato e mise un piede sull'impronta che gli indicarono. La forma e le dimensioni corrispondevano perfettamente. Due investigatori lo fiancheggiarono immediatamente a destra e a sinistra. Uno di loro ordinò «La chiave, ce l'ha?» Lui tese una grossa chiave arrugginita con cui un gendarme aprì facilmente la porta di ferro. All'interno, tre uomini, stretti gli uni agli altri, discutevano. I tre assassini. Il gendarme li fece uscire. Dubleturk, con un pugno puntato verso il capitano, ringhiò «Toh, ecco lo strozzo che ci ha acciuffato mentre arrivavamo alla chiatta! Ha lanciato una corda con un nodo che mi ha preso alla gola! Eh, lo riconosco!» «Allora», disse il capitano ridendo, «io da solo vi ho catturato e portato qui tutti e tre!» «Sfido io! Mi teneva la gola con un cappio! Doveva solo tirare! Gli altri sono stati immobilizzati come da mani invisibili! Fu inare e Puscafè portavano i sacchi! Quando ha chiuso la porta su di noi ha preso l'oro! E vi siete lasciati prendere tre contro uno!» «Abbiamo dovuto a dei trucchi personali per costringere all'obbedienza! Spilli che affonda nella pelle! Tenaglie che spezzano le braccia! Si cammina contro la propria volontà!» Il signor Fourvier, frapponendosi tra lui e la parete del sentiero infossato, mormorò con tono burbero «Che ne ha fatto dei sacchi?» «Credde dunque a una sola parola di ciò che pretende questo miserabile, signor giudice istruttore? Così avrei avuto ragione di questo colosso e dei suoi complici!» «Mi pare difficile, ma l'astuzia supplicce spesso alla forza! Chi è lei, signore?» «Ah! È dunque un interrogatorio?» «Libero di non rispondere!» «Non ho segreti per nessuno, signor giudice istruttore!» E disse pacatamente «Capitano André dosaveri, ufficiale di riserva, istruttore volontario dei gruppi scolastici della periferia nord di Parigi, noto qui con il nome di Capitan Cocoricò!» «Domicilio?» «Eh, qui!» «Nella casa matta?» «No, sull'amaca appesa tra due salici sopra un tronco che utilizzo come tavolo e su cui vede la mia borsa di tabacco e due camicie ad asciugare proprio laggiù!» «Se piove?» «Se piove, mi avvolgo nella mia coperta di caucciù!» «Se diluvia!» «Beh, in tal caso, mi corico laggiù sotto un'intelaiatura di vetro!» «Non molto comodo!» «Ma molto igienico!» «Professione?» «Archeologo, urbanista, conferenziere, pedagogo» «Quanto le rende?» «Onore!» «Sono molto sensibile a questo!» «In primo luogo, come archeologo, mi appassiono ai monumenti e ai lavori dell'epoca galloromana. Sono stato io a riscoprire il campo romano di Jubelin nella Mayenne e a ricostruire l'antico teatro di Lilbon, come le diverse città erette dall'imperatore Giuliano nei dintorni di Parigi e in Normandia. Poiché il nome di Julenvi aveva attirato la mia attenzione, sono venuto qua e ho scoperto le vestigia di una cerchia fortificata di mura attorno a questo terreno, acquistato il terreno e fatto degli scavi nella montagnetta sulle cui rovine ci troviamo ora. È così che mi è apparsa quella casa matta, luogo segreto in cui i conquistatori nascondevano depositi d'armi e le loro ricchezze. Ha fatto man bassa sulle ricchezze? Naturalmente, circa 500.000 franchi di polvere d'oro. L'ho divisa in tre, un terzo per me, un terzo per l'ex proprietario, un terzo per il comune. Il pagamento è stato omologato dal Consiglio di Stato, eh? Quindi sono in regola, signor giudice e istruttore, inattaccabile, più onesto di quanto sarebbe stato al posto mio un vero gentiluomo. Proseguo. In secondo luogo, urbanista. Il Capitan Cocoricò prese il braccio del signor Furvie e l'accompagnò nella parte della zone che si stendeva tra la proprietà e il fiume. Ma c'è un cambiamento a scena aperta, esclamò il giudice. Tanto quello che ho visto finora era sporco e miserabile e pietoso, quanto questo è pulito, dignitoso e persino gradevole. Urbanistica, signor giudice, mi creda, è esaltante creare del nuovo con la lebra e l'ignominia, case deliziose, graziosamente dipinte e variegate al posto di ignobili bicocche, un suolo pulito, strade e marciapiedi dove pullulavano capanne di cartone catramato e ondulato, dove fermentavano le pozze di fango, i rifiuti, gli escrementi e gli animali morti. Che gioia disegnare strade, tracciarle in modo netto e regolare, scavare la terra, allineare acquedotti, tubazioni, marciapiedi, innalzare lampioni a gas, preparare una rete elettrica, piantare alberi, riservare spazi per un giardino pubblico, per un salone delle feste, per un padiglione dell'orchestra, per alloggi popolari le cui quietanze mai consegnate nei termini giacciono ancora nel suo cassetto. Ma tutto ciò costa un occhio della testa, capitano. Ancor di più, signor giudice. Lei è dunque così ricco. Ancor di più, signor giudice. Come può riuscire a fare tutto? Non ci riesco. Per quanto ricco sia, mi sono quasi rovinato. E allora? Allora, rubo. A l'os matching Mode a detrimentali Mi ajuste ciò per aspettare l'T prick. Grazie a tutti.